uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop aspetta che sto registrando l'intro e adesso creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie e bella a tutti ragazzi e benvenuti all'ultimo teaser io sono xyuder e ragazzi come avevamo preannunciato non è un'immagine ma è un video ce lo guardiamo insieme oh mio dio oh mio dio raga era ovviamente logico che quello che avevamo scoperto ci avremmo ci avrebbe azzeccato la sfera al centro di sponde esploderà io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live ciao un attimo